Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al planetario di Modena per questo secondo incontro del ciclo Scienza più Voci 2019. Grazie della vostra partecipazione ringrazio anche i nostri collaboratori, il planetario che chiaramente ci ospita, il gruppo modenese Scienze Naturali e anche il comune di Modena, l'università di Modena Reggio Emilia per il patrocinio. Questa sera trattiamo il tema dei cambiamenti climatici e lo trattiamo sotto due punti di vista molto interessanti. Il primo è quello che ci presenterà Maric, geologo, su come vengono percepiti i cambiamenti climatici oggi anche da un punto di vista di media e il secondo invece è come incidono poi sulla nostra salute grazie a Francesco che è specializzante in medicina nonché associato di ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, con cui in coscienza sta cercando anche di portare avanti delle collaborazioni quindi come sempre stay tuned sulla nostra pagina. Ancora una volta chi non avesse messo mi piace in questa platea non può uscire prima di averlo fatto. Non buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere venuti così numerosi questa sera. Come possiamo vedere in queste ultime settimane di febbraio, che ci sono purtroppo più di 20 gradi a volte, cambiamenti climatici è un argomento ormai sempre più attuale. Proprio per questo abbiamo deciso di centrare questa conferenza su come vengono percepiti da un punto di vista medico e da un punto di vista scientifico. Se voi fate un attimo un esercizio di mente locale vi renderete conto che fino a pochi anni fa non se ne sentiva quasi praticamente parlare nei telegiornali, nei canoni dei mass media o anche solo sui social network. Invece adesso se voi aprite il giornale o accendete la tv vi renderete conto che più o meno lo scenario che ci troviamo davanti è una cosa così, una certa guerra mediatica in cui siamo continuamente bombardati e in questo tipo di stile di comunicazione, come alcuni di voi se siete professionisti in alcuni settori vi rendete conto, spesso alcuni argomenti vengono tagliati o non vengono esposti nel modo adeguato. Qua in questo caso abbiamo preso due individui che vediamo molto spesso in tv, uno è lo conosciamo tutti, cioè entrambi li conosciamo tutti, uno è Trump, l'abbiamo preso un po' a dimostrazione di tutti gli imprenditori o quelli che non accettano i dogmi della scienza o vogliono mettere lo sviluppo economico sempre crescente e lo sfruttamento delle risorse sempre in primo piano e l'altro è Di Cabrio, non solo attore ma si sta battendo spesso negli ultimi anni per la divulgazione scientifica. Ma d'altro canto questi due individui vengono anche utilizzati nel modo contrario da chi vuole e continua a smentire l'effetto dei cambiamenti climatici, cioè dando ragione alle teorie trumpiniane di sfruttamento delle risorse planetarie e accusando tutti gli attori e personaggi pubblici e anche divulgatori di essere caduti nella gigantesca bufala dei cambiamenti climatici. Ma adesso appunto vediamo alcune di queste bufale che possono essere prese perché è un argomento molto complesso e soprattutto uno dei più grandi errori che ha sempre avuto la scienza moderna è quella di non aver mai avuto un rapporto con il grande pubblico, ma aver lasciato i suoi dati scientifici e la conoscenza sempre all'occorrenza degli esperti ai lavori e quindi questo ha portato grossi fraintendimenti. Uno fra tutti è questa parola qua, global warming o riscaldamento globale e cambiamenti climatici. Se ci pensate un attimo fino a pochi anni fa, global warming o riscaldamento globale era una parola usatissima, la sentivamo ovunque, specialmente quando noi eravamo piccoli, io mi ricordo che la maestra diceva per bloccare il surriscaldamento globale basta semplicemente spegnere qualche luce o mettere il coperchio sulla pentola. Cose sempre attuali ma purtroppo non sono più sufficienti. Dove nasce questa parola? Che è la causa di tutti i più grandi fraintendimenti usati dai negazionisti dei cambiamenti climatici. Viene adottata ufficialmente nel 1979 durante la prima conferenza mondiale sul clima. Siamo molti anni prima del famoso protocollo di Kyoto di cui tutti abbiamo sentito parlare e questa conferenza ha origine perché solo pochi anni prima, all'inizio degli anni 70, una compagnia petrolifera che allora era la ESO e adesso si chiama ExxonMobil iniziò uno studio sugli effetti della CO2 in atmosfera e del relativo aumento delle temperature come possiamo vedere l'impennata in questo grafico. E cosa comportava poi sul riscaldamento del clima, scioglimento degli acciaio, aumento del livello del mare e quindi perdita di terra, soprattutto delle zone costiere. Possiamo pensare nobile come studio che venga da una compagnia petrolifera. In verità il vero scopo, come ha messo la ExxonMobil negli anni, era quello di andare a sfruttare i giacimenti petroliferi nelle zone a rischio di aumento del livello del mare. Perché anche un solo metro per una compagnia petrolifera sono milioni di costi di estrazione. Quindi se vediamo questo grafico qua, dell'aumento delle temperature, possiamo accorgerci che molto spesso vengono correlati che è molto simile al grafico dell'andamento in blu e la media dell'aumento della CO2 nel corso del tempo. Spesso magari qualcuno di voi si sarà chiesto come mai tutti questi grafici iniziano dal 1880 in poi. Non c'è o raramente li troviamo antecedenti al 1880, sia quello delle temperature che quello della CO2. Perché il primo tra tutti che ha l'intuizione geniale che l'aumento della CO2 in atmosfera dovuto ai combustibili fossili è Svante Arrhenius. Era un chimico svedese, premio Nobel per la chimica, lo studiamo alle superiori per i suoi studi sulla ionizzazione, per cui ha vinto il Nobel. Nei suoi anni, siamo negli anni del motore a vapore, del consumo del carbone prevalentemente, il petrolio deve ancora essere utilizzato. E lui per primo ha questa intuizione, quindi incomincia a misurare i valori di CO2 presenti nell'aria. Quindi è per questo che da questa data in poi tutti i valori sono misurati direttamente in atmosfera. Tutti quegli antecedenti sono ricavati con metodi indiretti che vedremo più avanti. E quindi è questa la differenza per cui nasce la parola riscaldamento globale, perché si è visto un trend di aumento delle temperature. Adesso non si usa più, non è più corretto utilizzare questa terminologia proprio perché si può cadere in un concetto sbagliato che è quello che parlano di riscaldamento globale eppure fa freddo e nevica. Ma si parla appunto di cambiamenti climatici, perché questo, l'aumento di temperatura del clima, porta a un cambiamento climatico dei vari ambienti terrestri. Che cos'è l'effetto serra? Ho inserito questa slide perché parlando con molte persone mi sono accorto che non è sempre chiaro. L'effetto serra non fa così male, in teoria ci piace, ci permette di vivere in questo pianeta. Non è altro che uno strato, cioè tra virgolette strato, di gas, fra cui per esempio la CO2, che è presente nella nostra atmosfera. I raggi solari in arrivo dal sole penetrano, alcuni vengono riflessi e rimangono, diciamo, imprigionati tra la Terra, l'atmosfera e non fuoriescono nello spazio circostante, ma fuoriescono solo dopo alcuni rimbalzi, tra virgolette, che fanno. Alcuni vengono assorbiti e poi rilasciati sotto forma di calore dalla Terra. Il problema dov'è? Che tanto effetto serra, quindi tanta CO2 nell'aria, più questi raggi vengono rimbalzati e continuano a rimbalzare e non riescono a fuoriuscire in atmosfera. Ed è come se avvolgessimo la Terra in una sorta di coperta termica riscaldata continuamente. Se prendiamo per esempio due nostri vicini di casa, come Marte e Venere, vediamo che Marte è molto freddo e inospitale per la vita, perché non ha più i gas serra e quindi l'effetto serra su Marte è nullo, perché tutta la sua atmosfera è stata spazzata via a causa di un impatto meteoritico. Invece Venere, che è l'altro nostro vicino di casa, una volta era abitabile, era molto simile alla Terra, poi a un certo punto i suoi vulcani sono impazziti, hanno cominciato a eruttare grosse quantità di CO2 e quindi adesso la sua temperatura al suolo è di 1200 gradi, circa un forno ceramico e quindi tutta l'acqua è evaporata. Ok, arriviamo a questo punto qua, neve e inverno, come dicevo prima, questo è un post di Trump che abbiamo preso delle sue elezioni campagna elettorale del 2014 che dice sta nevicando in Texas e Louisiana, che sono degli stati nel sud degli Stati Uniti, record di temperature fredde in tutto il paese e oltre il global warming è una cazzata costosa. Lo abbiamo visto anche questo inverno negli Stati Uniti in Canada, dove hanno raggiunto record di temperature fredde o anche oltre 30 gradi a Chicago. Cosa vuol dire? Questo è il motivo per cui la comunità scientifica ha deciso di non utilizzare più la parola riscaldamento globale ma cambiamenti climatici, perché è vero che la temperatura del clima si sta scaldando, siamo già a un grado e mezzo più caldi del periodo pre-era industriale. Ma l'inverno, per gli amanti dell'estate, o una brutta notizia, ci sarà sempre. Forse è un po' più mite se continuiamo così, ma lo avremo sempre perché l'inverno è dovuto a fattori astronomici come l'inclinazione dell'asse terrestre e la sua rotazione intorno al Sole. Quindi che cosa porta a un aumento delle temperature del clima e i cambiamenti climatici? Porterà ad avere inverni sempre più corti, cioè come stiamo vedendo anche quest'anno, iniziano dopo e terminano prima e soprattutto continuerà a nevicare ma la neve al suolo resterà molto meno perché le temperature al suolo sono molto più elevate. Come abbiamo visto anche lo scorso febbraio, una settimana avevamo la neve e il giorno dopo, pochi giorni dopo, avevamo già 20 gradi che potevamo andare in maglietta, maniche corte. Questo può causare problemi soprattutto nella nostra zona perché una grossa quantità di neve che si scioglie all'improvviso può causare alluvioni in pianura e soprattutto la neve è la fonte principale della ricarica delle nostre falde acquifere perché sciogliendosi in teoria piano piano dà in modo all'acqua di penetrare negli strati rocciosi, prima nel terreno e poi nelle strati rocciosi e ricaricare le falde acquifere, cosa che non fanno le cosiddette bombe d'acqua come stiamo subendo negli ultimi anni, o delle piogge intensive in cui il terreno si imbibisce subito di acqua e l'acqua non penetra e ricarica le falde acquifere dove noi attingiamo tutta la nostra acqua. Quindi arriviamo all'ultima grande bufala che ho voluto raccontare in questa presentazione ed è la differenza tra meteo e clima. Spesso adesso guarderemo un video tratto dalla serie tv Cosmos dell'astrofisico Neil deGrasse Tyson che lo spiega molto bene e soprattutto noi pensiamo che il meteo inteso proprio come previsione meteo e clima siano la stessa cosa come vi dicevo prima e dicono che farà sempre più caldo eppure comincia continua a nevicare invece in verità sono due cose molto molto diverse tra loro. Intanto che accendo una piccola curiosità l'inventore delle previsioni meteo quando diciamo non ci prendono se dobbiamo odiare qualcuno è il capitano Fitz Roy che era capitano del brigantino Beagle durante il viaggio in cui era presente anche Charles Darwin inventò le previsioni meteo. Grazie. 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 comunità scientifica, quali vedremo in seguito estinzioni di massa, perdita di habitat e mancanza di risorse idriche, è proprio grazie ai nostri mari oceani, in cui la temperatura abbiamo sentito negli ultimi anni che è sempre in aumento, perché l'oceano funge un po' come una sorta di grande polmone e sta assorbendo la maggior parte della CO2. Per esempio la notizia dell'anno scorso che la grande barriera colorina in Australia è morta dovuta appunto all'aumento della temperatura dell'oceano pacifico. Allora i fattori elencati sono questi, uno lo conosciamo tutti che è la quantità di gas serra nell'aria, quindi la CO2, attività solare e l'inclinazione dell'orbita terrestre e i suoi movimenti, disposizione dei continenti e correnti oceaniche ed eruzioni vulcaniche ed impatti di meteoriti. Tutti questi cinque fattori sono perfettamente in equilibrio tra di loro. Una piccola variazione di uno di questi cinque fattori può causare alterazioni nel clima anche catastrofiche per la vita del nostro pianeta. Come vedremo in seguito sono cambiati molto nel corso delle ere geologiche e molto spesso hanno causato anche delle estinzioni di massa. La vita bene o male è sempre riuscita ad adattarsi a queste variazioni. Il punto cruciale per cui si fa tanto pressione sui cambiamenti climatici è il tempo. Se cambiano in modo repentino la vita non ha il tempo di adattarsi al cambiamento. Se invece è un cambiamento graduale e anche più o meno costante nel corso del tempo, le specie viventi e soprattutto gli ambienti della biosfera hanno la possibilità di adattarsi e quindi diciamo mitigare l'impatto. Guardiamo il primo, l'attività solare. Chi è il primo ad iniziare a studiare il nostro sole è proprio Galileo Galilei all'inizio del 1600 con l'invenzione del suo telescopio e comincia a puntarlo verso il sole e si accorge, come lui e tanti dopo di loro, che l'attività del sole non è mai costante. Cioè lo è ma non lo è mai stata nel corso dell'epoca. Passate annualmente delle variazioni che possono essere più o meno intense. Nel 1600, come a volte vi leggiamo in alcuni libri di storia, abbiamo avuto che un picco negativo del sole, cioè la sua emissione di raggi solari è andata calando e ha causato quella che nei libri di storia viene chiamata la piccola età rilaciale. Se ricordate in questi periodi c'era molto freddo e inverni molto lunghi. In questo periodo in cui stiamo vivendo noi adesso, segnato come in blu, cioè dal più o meno 1825 in poi, il sole ha mantenuto bene o male un'attività costante perché funziona come una specie di centrale nucleare molto più in grande. Quindi grazie all'osservazione che poi è andata migliorando nel corso degli anni e grazie anche agli strumenti di satelliti lanciati in orbita dalla NASA e dall'ESA, possiamo escludere l'attività solare tra i fattori di aumento della temperatura globale del clima. Soprattutto perché noi registriamo le temperature più alte durante le ore notturne, cosa che non è possibile se fosse legato a un aumento dell'attività solare. Questo è dovuto appunto alla CO2, alla grossa quantità di CO2 in atmosfera e all'aumento dell'effetto serra, come vi dicevo in precedenza. La disposizione dei continenti e delle correnti oceaniche. Possiamo vedere che in questa immagine, che riassume molto, i raggi solari entrano in atmosfera e vengono riflessi dalla superficie terrestre e dagli oceani. Vi sarà capitato più volte che se camminiamo su marciapiede o su montagna, su della roccia o sull'asfalto, percepiamo al suolo molto più caldo di come se invece noi camminiamo alla stessa ora del giorno e magari anche nello stesso momento su di un prato reboso o in un bosco, perché l'asfalto e molte delle strutture antropiche tendono ad assorpire più raggi solari e quindi a rilasciare poi il calore nel corso delle ore successive al tramontarsi del sole. Invece le parti di terreno lasciate in modo naturale, come possono essere un prato o ancora meglio a foresta, l'effetto della vegetazione assorbe i raggi solari e quindi contribuisce in larga scala e su tutto il pianeta a raffreddare l'aria e a mitigare l'effetto dei raggi solari. Ciò che mitiga più di tutti sono la neve fresca e i ghiacciai, perché come possiamo accorgerci anche noi, una macchina bianca lasciata al sole è molto più fresca di una macchina nera lasciata nello stesso posto e nello stesso numero di ore, perché il bianco riflette tutto e si ha quel fenomeno appunto detto dell'albedo di riflessione totale dei raggi solari. Dato che il nostro numero dei ghiacciai ogni anno sta diminuendo sempre più a Los Angeles hanno avuto una bellissima idea che è quella di invertire il colore delle strade. Sembra bianco da questa foto, in verità è il cosiddetto bianco glaciale che è un bianco che simula molto l'effetto della neve fresca e dei ghiacciai e loro nel 2017 si sono messi a colorare la maggior parte delle strade di Los Angeles per fare un esperimento e quindi a dipingere poi le strisce stradali in nero e si sono accorti che non solo la temperatura all'interno delle macchine era molto più fresca, ma i quartieri colorati con le strade di bianco e le abitazioni consumavano molta meno corrente elettrica nei loro impianti di raffreddamento come di condizionatori, perché la quantità di calore soprattutto nelle ore notturne riflessa dalla rilasciata dall'asfalto era molto inferiore. Vi faccio un rapido riassunto, sono le nostre correnti, abbiamo il famoso Onigno, la corrente del Golfo che permette di poter vivere alle alte latitudini in Europa come la Norvegia, cosa che non è possibile alle stesse latitudini nel nord del Canada e in Groenlandia. Una sola modificazione di queste correnti può causare dei mutamenti degli habitat anche nelle parti opposte del nostro pianeta. Per esempio se tutti i ghiacciai si scioglierebbero all'improvviso, la grossa quantità di acqua potrebbe in quell'anno per un certo periodo destabilizzare questa corrente calda che arriva dal Golfo del Messico. Per esempio la formazione del centro America e la chiusura e la separazione poi dall'Atlantico con l'Oceano Pacifico ha, diciamo, tra virgolette donato un clima artico e desertico in questa parte dell'Africa dove qui ritroviamo per esempio il deserto della Namibia, cosa che invece prima della chiusura di questo stretto avevamo una rigoriosa foresta pluviale. L'ultimo effetto sono le eruzioni vulcaniche. Spesso sentiamo parlare di questi vulcani, possono dare danni alle popolazioni che ci vivono e alle loro pendici, ma soprattutto un effetto indiretto di cui non si parla mai è la cenere vulcanica emessa in atmosfera. Può arrivare a diverse quote, anche superiore a quella di cui vola un aereo di linea. Se per esempio l'eruzione è molto spinta, come in alcuni vulcani, come può essere anche il nostro Vesuvio, o molti vulcani che al momento sono quiescenti in Indonesia. La cenere vulcanica cosa fa? Riflette i raggi solari in entrata, causando un vero e proprio cono d'ombra per chi ne ha al di sotto e chi viene, diciamo, investito dal plum della corrente che viene trasportata dai venti più elevati della nostra atmosfera. Per esempio, non va avanti, ricordiamo, viene ricordato molto catastrofico, il 1816, che viene ricordato come l'anno senza estate, perché l'esplosione del Tarabora in Indonesia causò appunto la mancanza dell'estate dall'altra parte del globo, in occidente, specialmente in Inghilterra, Canada e Stati Uniti, e in questo anno abbiamo avuto che tutte le coltivazioni della patata in Irlanda e non sono avvenute, grosse carestie in Inghilterra e in Irlanda, migrazione di tutti gli irlandesi negli Stati Uniti, e viene anche ricordato come il vulcano che sconfisse Napoleone, perché in quegli anni, per esempio, Napoleone decise di invadere la Russia e l'inverno, come tutti ricordiamo, continuò molto più a lungo quell'anno causando appunto la morte di carestia di tutto l'esercito. Come sappiamo tutte queste informazioni del clima passato grazie a questa, che è, diciamo, la nostra biblioteca Terra, e le ricaviamo appunto dalle rocce e dei ghiacciai tramite dei carotaggi. A volte non è così semplice, perché diciamo che è una specie, una sorta di carodiario che viene riscritto più e più volte dalla Terra, metà cancellato e alcune pagine strappate, e quindi la ricostruzione non è molto automatica né molto semplice. La CO2, per nostra fortuna, è stata conservata molto a lungo nella neve, soprattutto l'andiamo a trovare nei posti in cui nella nostra Terra c'è più neve di tutti, che sono il polo nord e il polo sud. Ma non solo la CO2, ma tutti gli elementi presenti in atmosfera nel momento in cui sta nevicando. Come possiamo vedere, nevica, c'è della CO2 in atmosfera, viene intrappolata dai fiocchi di neve e rimane al suolo. Poi se le temperature del luogo e del posto lo permettono, rimane al suolo per moltissimo tempo. E quindi noi con un semplice carotaggio possiamo trovarla e ripercorre andare a ritoso nel tempo per vedere quanto era la sua quantità in atmosfera in quel preciso momento. Ed è grazie a questo sistema che noi sappiamo che prima dell'era industriale, nei carotaggi avvenuti in Antartida e in Groenlandia, la CO2 non era ai livelli attuali, era decisamente molto ridotta. Chi è il primo a scoprirlo? Vorrei dedicare qualche minuto a Claire Patterson, che era un geochimico, e iniziò a lavorare intorno agli anni 40 per il Dipartimento di Geologia in California e gli venne affidato un compito abbastanza semplice che era quello di scoprire la verità della Terra calcolandolo tramite il decadimento del piombo in un pezzo di meteorite molto antico ritrovato. Patterson accumula una serie di grandi insuccessi nel corso dei successivi sedici anni, perché trovava dei valori completamente sballati di piombe non correlabili. Allora gli viene un'idea, costruisce per la prima volta la camera asettica e finalmente riesce ad ottenere una curva del piombo perfetta, non inquinata e ottiene l'età della Terra. E allora non si ferma qui, poteva fermarsi, ma va oltre e comincia a pensare come mai ha dovuto costruire una camera ad inquinamento zero. In quegli anni lì, fino agli anni 90, la benzina, come molti di voi forse ricorderete, veniva additivata col piombo, la famosissima benzina rossa. Claire capisce che tutto il piombo in atmosfera poteva appunto derivare dal consumo della benzina additivata al piombo. Allora parte con una campagna abbastanza disagevole a carotare e a studiare sul posto sia in Groenlandia che in Antartide e ottiene che i valori di piombo sono alle stelle. Verrà nel corso della sua vita fermato dalle compagnie petrolifere, verranno pagati falsi certificati di pazzia per rinchiuderlo in manicomi, alla fine Patterson ce la fa e pochi anni prima di morire, intorno agli anni 90, come alcuni di voi ricorderete, la benzina a un certo punto da rossa diventa verde. E da allora i valori di piombo dei nuovi nati sono calati e presenti negli organismi del 75%. Il piombo dà, come potrà dire anche il nostro medico, dà una grave patologia che è il saturnismo che provoca pazzia e allucinazioni. Noi purtroppo per nostra sfortuna non possiamo vedere la CO2 coi nostri occhi in atmosfera. Se potessimo vederla probabilmente avremmo smesso di inquinare molto tempo fa. Quindi per darvi un'idea di quanta CO2 c'è in atmosfera, l'anno scorso noi abbiamo inquinato e abbiamo messo in atmosfera 41,5 miliardi di tonnellate di CO2, solo nel 2018. Per rendervi un'idea di quant'è, sono esattamente, se noi la raccogliessimo e comprimessimo, sono esattamente la dimensione delle scogliere di Dover in Inghilterra. Per farvi una proporzione, questo è un pescherecce e questa è una nave a trasporto passeggeri. Perché proprio queste scogliere, prese in dettaglio? Perché queste sono scogliere carbonatiche formate da carbonato di calcio legato a CO2 presente nel mare milioni di anni fa che lentamente si sono depositate. Tra milioni di anni, se noi ci saremo ancora non ci saremo più, la CO2 entrerà lentamente nel mare tramite assorbimento degli oceani o di lavamento delle acque dei fiumi e troveremo la dimensione di questa scogliera moltiplicata per ogni anno in cui noi abbiamo emesso CO2 in atmosfera, quindi dall'era preindustriale e dall'inizio dell'era industriale ad oggi. Qui per lasciarvi magari un compito a casa, se non credete a quanta CO2 c'è in atmosfera al momento e soprattutto dove state vivendo, potete andare su questo sito, quindi .com, potete divertirvi a creare le vostre previsioni meteo, ma soprattutto potete vedere che il giallo è i valori di CO2 più o meno normali in atmosfera, il grigio è dove non ci sono stazioni e non ci sono dati. Nero e rosso le cose vanno non particolarmente bene. Qui è la Cina, è Pechino, è Hong Kong, è tutto il complesso industriale cinese. Questa immagine l'ho presa sabato scorso, sabato 2 marzo, India e Pakistan, New York, Los Angeles, complesso Amsterdam, Bruxelles, Londra e poi qua non si vede benissimo c'è la pianura padana, questo puntino grigio dove noi stiamo soffocando al momento e soprattutto vorrei farvi notare questi due puntini qua nella zona Senegal e Sud America che sono incendi in atto in quel momento appunto per dare spazio per incendi della foresta pluviale per dare spazio alle coltivazioni che va molto in questi paesi, bruciare foresta vergine per dare spazio a coltivazioni soprattutto di olio di palma. Quindi arriviamo verso la fine della mia parte, spesso troviamo dei negazionisti che dicono sì, la CO2 c'è sempre stata, è sempre aumentata e diminuita e mai per merito nostro perché una volta non c'eravamo e quindi anche adesso non è colpa nostra. Vero in parte fino al fatto che non è colpa nostra. Questa è diciamo una parte della scala dei tempi geologica e partiamo da qua che è 600 milioni di anni fa a qua che è l'anno zero. Ho cercato di dividere sommariamente in cinque blocchi che vedremo nella slide successiva questa suddivisione. Possiamo vedere che adesso siamo a 400 ppm, possiamo vedere che la CO2 è arrivata anche a record di 6.000. Però cosa succedeva? Che in quegli anni qua il sole era molto più debole perché all'inizio diciamo della sua carriera e soprattutto noi come genere mammiferi non c'eravamo. La disposizione dei continenti era molto diversa, il numero dei vulcani era anche minore, c'erano altri fattori che come abbiamo visto prima contribuivano all'equilibrio e tali livelli di CO2 molto elevati contribuivano a una sorta di equilibrio e di formazione degli habitat che era ottimale per la vita e per le specie viventi di quell'epoca. Passiamo da organismi principalmente marini, a insetti giganti nel carbonifero permiano, dinosauri che vivevano in un clima dove i gradi erano 5 gradi superiori al nostro e poi arriviamo a noi che come potete vedere la storia dei mammiferi inizia qua e siamo a livelli di CO2 completamente diversi alle epoche precedenti fino ad arrivare al picco negativo minore in assoluto corrispondente alle famose glaciazioni dei mammut di cui vediamo a volte in qualche film. E quindi arriviamo all'ultima mia slide prima di passare la parola a Francesco e l'ho voluta dedicare alle estinzioni di massa. Queste sono le cinque grandi estinzioni di massa della storia che a volte sentiamo parlare e nominare e come ho detto in precedenza sono avvenute a causa di come potete anche leggere a cambiamenti climatici e repentini che non hanno permesso alla vita e alle specie di viventi di adattarsi in modo da sopravvivere. Sono dovute a cause più disparate, impatti meteoritici, perdita di habitat, disposizione dei continenti ma soprattutto ho voluto indicare in rosso quella del Permiano che è una estinzione che ci riguarderà, che ci sta riguardando in questo momento molto da vicino perché fu molto simile a quella che si presuppone andremo incontro a noi o comunque a un cambio di clima in quale stiamo andando incontro. Cosa è successo nel Permiano? A un certo punto i vulcani che occupano lo spazio corrispondente all'attuale Siberia cominciano a erottare, cominciano a erottare in massa con grandi quantità di lava e ceneri e CO2 aumentando il clima. Cosa succede? Che questi vulcani vanno soprattutto a intaccare i depositi provenienti, come torniamo indietro, del carbonifero dove questo nome assomiglia molto a carbone perché tutti i nostri depositi di dove attingiamo carbone e petrolio provengono dalla fossilizzazione degli alberi presenti in quell'epoca. Quindi vanno con la lava ad intaccare questi depositi, cominciano a bruciare e a mettere altra CO2 in atmosfera che a loro volta liberano il gas metano imprigionato nei ghiacci e nel permafrost come se cercate qualche immagine della Siberia in questo momento sta avvenendo e il gas metano è un gas inquinante 4 volte con un potere, è un gas serra con un potere 4 volte superiore alla CO2. Quindi abbiamo questo nemico nascosto nei ghiacci della Siberia che se l'aumento di clima e lo scioglimento dei ghiacciai continuerà sarà un vero problema. In questa estinzione di massa abbiamo perso il 96% delle specie conosciute attraverso i fossili. La vita per riprendersi ci metterà 10 milioni di anni, quindi è un quantitativo di tempo che per la mente umana è difficile da comprendere. È molto elevato. Quindi arriviamo ai fattori. Cosa ci aspetta per il futuro? Siamo a rischio appunto di estinzioni e se continuerà ad aumentare la temperatura del clima a un numero sempre più frequente, perdita di habitat e perdita di superficie. Prova? Ok. E le pile? Perdita di superficie che possiamo destinare all'agricoltura e soprattutto una delle cause maggiori è la perdita di rifornimenti idrici, perché può succedere che regioni che adesso possono risultare fertili, anche come per esempio la nostra pianura, Prova? Ok. E regioni come la nostra pianura padana o l'India si troveranno nel futuro non troppo lontano senza acqua, appunto dovuto alla mancanza di neve. Si stima per esempio che se continua a smettere di nevicare come sta succedendo in Malaya e in Tibet, l'India finirà le sue risorse idriche tra il 2030 e il 2050 da cui appunto attinge. Quindi io termino qui e passerei la parola al mio collega. Grazie Mari, ora starò seduto in attesa del microfono. Esafron? No? Ok. Poi mi alzerò. Dunque, intanto ringrazio ancora Mari che vorrei iniziare la mia parte della conferenza parlando appunto del titolo della conferenza stessa, nel senso si parla di percezione. Io essendo medico vorrei provare a darvi un po' una spiegazione molto rapida di cos'è la percezione in termine scientifico, anche se sarà da quel punto di vista molto breve. Voi cosa percepite qua? Percepite le linee oblique. Questa immagine, suppongo l'abbiate già vista, è molto utilizzata per fare questo esempio. Le linee sembrano oblique, in realtà sono orizzontali perfettamente ed è un'illusione ottica che voi percepite, creata alla disposizione dei quadrati neri e dei quadrati bianchi. Cos'è la percezione? Da un punto di vista assolutamente medico o biologico, fondamentalmente è la capacità di prendere coscienza di uno stimolo. Io ad esempio, lo stimolo può essere mare di cose, ad esempio tengo in mano questo telecomando, percepisco il telecomando sia con la vista che con il tatto, questa informazione arriva nel mio cervello, io prendo coscienza del telecomando che ho in mano. Ma la percezione come definizione non è così semplice, nel senso ne può avere tante. In particolare ci sono messi gli psicologi ad analizzare questa cosa, io guardo in quella direzione perché ringrazio Peter per l'aiuto che mi ha dato che studia psicologia, perché gli psicologi hanno dato svariate definizioni di percezione e ora vedrete due definizioni di percezione che provano a definire la stessa cosa ma sono molto diverse tra di loro. La prima è la presa di coscienza da parte del soggetto di una realtà esterna o interna. Ok, realtà esterna, famoso telecomando, realtà interna, la percezione di quello che ha il mio corpo che arriva alla mia coscienza. Un'altra definizione è la presa di coscienza nell'ambito dell'esperienza sensibile, quindi come sopra, oppure delle possibilità o delle disponibilità dell'intuizione. Ok, vedete che definiscono la stessa cosa ma sono molto diverse l'una dall'altra, nel senso la seconda aggiunge molto di più rispetto alla prima. Aggiunge fondamentalmente, dice che noi possiamo percepire qualcosa grazie a una serie di meccanismi nella nostra testa che ci possono fare arrivare alla coscienza delle cose anche non percepibili davanti a noi. Io intuisco che il climate change è un problema perché ho tante informazioni che mi forniscono questa certezza, mentre alcuni altri potrebbero non averle. Ok, perfetto, così posso avvicinarmi. La percezione, come può essere influenzata? Ci sono vari fattori. In primis ci sono un mare di errori che possono mettersi tra noi e una percezione giusta. Gli errori vengono definiti bias anche, ad esempio, i bias cognitivi, appunto. Quindi sono errori che sono basati su percezioni errate o deformate e sono utilizzati spesso per prendere decisioni in fretta e senza fatica. Esempi di bias cognitivi sono il recency bias, quindi un bias di, non c'è una traduzione reale, un bias di qualcosa di recente, un errore grazie a percezioni recenti. Cioè percepire più facilmente un pericolo di un evento avvenuto recentemente rispetto a uno avvenuto tempo addietro. Se io vi dicessi, vi fa più paura, supponendo che abitiate tutti in zona, vi fa più paura il terremoto o un uragano, immagino di dire se il terremoto, perché voi gli uragani non ne avete mai visti. Terremoti è un evento abbastanza recente e magari spaventa un po' di più. L'euristica della disponibilità invece, dove oristica si traduce come scorciatoia, è una scorciatoia mentale, basata su esempi immediati che ingannano nella valutazione di un dato argomento. Marix ha fatto prima l'esempio del buon Trump che dice, ah guardate sta nevicando il climate change, è una cavolata. Questo è un ottimo esempio di oristica della disponibilità. Lui fa la scorciatoia dicendo, ah nevica fa freddo, quindi il global warming e il climate change sono una cavolata. No, non è proprio così. Un'altra cosa che va a influenzare la percezione è l'interazione che c'è in ciascuno di noi tra processo analitico e processo associativo. Il processo analitico lo possiede ciascuno di noi, è una cosa che ogni essere umano che abbia la cognizione ha, ed è un processo molto rapido e immediato che fondamentalmente ci permette di fare associazioni semplici e darci una determinata idea o percezione. Il processo associativo invece è una cosa che si deve imparare, è quello che fanno gli scienziati, nel senso mettono assieme un mare di dati, imparano come elaborare questi dati e imparano come trarre le conclusioni corrette dai dati stessi. Quindi non è una cosa che ciascuno di noi ha, è una cosa che ciascuno di noi può imparare e deve allenare in modo molto intenso. L'America. L'America è un grandioso esempio di tante persone che hanno tanto processo associativo, cioè è sempre stato un'avanguardia dal punto di vista della ricerca. Certo, non tutti sono proprio così avanzati, nel senso che Trump sicuramente il processo associativo non ne utilizza, almeno dal punto di vista del global warming o climate change, chiedersi voglia. Però per fortuna già nel 1989 gli americani dissero cose molto interessanti dal punto di vista del global warming e del climate change. In particolare uscì un documento da parte dell'Environmental Protection Agency, quindi l'Agenzia Governativa di Protezione dell'Ambiente, che spiegava quali potevano essere i potenziali effetti del climate change sugli Stati Uniti dell'America. Era un malloppo di 400 pagine nel quale riuscirono a trovare un capitoletto anche per la salute umana. E cosa dissero? Trovarono delle informazioni attuali, direi interessanti e attuali, che sono fondamentalmente, che sarebbe incrementata la mortalità estiva per il troppo riscaldamento nell'estate rispetto a quanto sarebbe diminuita la mortalità invernale, sempre per lo stesso meccanismo. Quindi sempre con la mentalità del global warming, quindi le temperature si alzano, loro pensarono, ok, avremo inverni più miti, quindi ci sarà meno mortalità per il freddo, ma contemporaneamente avremo i stati molto più caldi. Qual è l'effetto maggiore dei due? Sicuramente l'estate più calda, quindi l'estate più calde fanno più morti di quanto ne risparmia un inverno un pochino più limite. Dissero che i cambi repentini della temperatura sono correlati con maggior mortalità, ce l'ha fatto vedere in modo più massivo Maric, i cambi repentini del clima hanno portato a estinzioni, ok, adesso non è questo il caso ovviamente, però anche questo per dire che comunque agli organismi un cambio di temperatura non è una cosa proprio che fa del bene. e stati più calde e lunghe possono provocare un incremento della mortalità pediatrica, quindi dei bambini, e un incremento della nascita pretermine. Quindi iniziarono anche a capire quali erano le fasce di popolazione più a rischio in generale a causa del global warming. Infine che i cambiamenti climatici possano alterare l'abita di alcune specie di insetti che fungono da vettori di patologie e questo lo vedremo più approfonditamente dopo. Qual è la percezione degli effetti sulla salute mediata del climate change? Questo bellissimo schema, per cui ringrazio il New England Journal of Medicine, ci dà, questo è uno schema uscito in un articolo pubblicato recentemente appunto sul giornale che per chi non lo sapesse è uno dei più autorevoli nel campo della medicina, ci schematizza fondamentalmente gli effetti del climate change sulla salute, partendo da quelli per i quali noi abbiamo una maggior percezione, quindi gli effetti più diretti, non ve li sto a tradurre e elencare perché li vedremo pian piano, fino ad arrivare a quelli con una minor percezione, quindi quelli più indiretti. Quindi, senza indulgere oltre, andrei avanti facendovi vedere subito uno degli eventi climatici più avversi che possono succedere grazie al climate change e i quali stanno anche aumentando grazie al climate change stesso, gli uragani. Abbiamo detto che noi non siamo coinvolti perché più spesso è coinvolto gli Stati Uniti o comunque dei continenti che sono vicini a masse d'acqua molto più grandi del Mar Mediterraneo. Questo che vedete è l'uragano Catrina, che ricorderete come uno degli uragani comunque più intensi che ha colpito l'America, sia come danni che come effetti appunto su livello della popolazione. Quindi l'uragano Catrina o l'uragano in generale, che effetti ha sulla popolazione in modo diretto? Non ve lo sto a spiegare, nel senso che vi potete immaginare che un uragano che arriva sulla vostra città vi scopre che è la casa, vi porta via la macchina, probabilmente vi uccide se vi passa attraverso. Quindi questi sono gli effetti più immediati, quindi morte traumatiche, ferite e quant'altro. Un altro effetto diretto invece su cui vi voglio far ragionare e su cui non molti hanno una percezione appunto, è l'effetto sulla salute mentale. Perché un evento del genere non solo può uccidervi, ma se siete vicini e sopravvivete può avere su di voi, dipendentemente dalla vostra età, dalla vostra capacità di avere a che fare con un evento stressante del genere, degli effetti psichiatrici molto importanti. Uno studio ha rilevato che fino al 50% della popolazione colpita da un evento climatico estremo può subire effetti psichiatrici cronici e molto importanti che possono passare anche dal disturbo post-traumatico da stress alla depressione in cronico e a stati d'ansia che si possono protrarre anche per anni. Un esempio recente è comunque diciamo calcolabile L'effetto che ha avuto su Porto Rico l'uragano negli anni recenti Porto Rico ha una suicide line, che è una linea telefonica dove le persone depresse possono telefonare e fondamentalmente provare a spiegare i loro problemi trovare un supporto psicologico in modo da evitare l'atto estremo Quella sui side line, durante il periodo di passaggio dell'uragano ricevete il doppio delle chiamate rispetto al normale Quindi già questo vi dà l'idea di quanto possa essere importante un evento del genere sulla salute mentale Questa è New Orleans dopo il passaggio dell'uragano Catrina Per dirvi un po' di effetti indiretti dell'uragano L'uragano è fondamentalmente una grande massa d'acqua assieme a vento e tutto quello che c'è dietro che viene trasportata dall'oceano sulla terraferma Come effetti indiretti assimilavano anche uno tsunami perché l'effetto alla fine è quello un enorme allagamento, un enorme inondazione Quindi abbiamo detto, se funzionasse grandi quantità di acqua salata che vengono spostate sulla terraferma in generale in posti dove non deve esserci Cosa provocano queste grandi quantità di acqua salata? In primi su una contaminazione diretta di fonti d'acqua potabile Questo rende le fonti d'acqua potabile inaccessibili La popolazione ricerca fonti d'acqua non potabile per idratarsi C'è contemporaneamente un meccanismo di indebolimento della popolazione per mancanza di risorse idriche e quelli che provano a bere acqua non potabile possono avere conseguenze ben peggiori come vedremo più avanti L'inondazione di zone agricole fa dei danni molto importanti specialmente con l'acqua salata anche a lungo termine quindi non solo problematica del bere problematica del mangiare anche anche a lungo termine parlo di decenni quindi può rovinare un intero ecosistema e infine la creazione di nuove zone paludose anche queste che possono perdurare secoli con conseguenze sulla salute a cui arriveremo verso la fine ho l'inondazione dunque gli effetti diretti indiretti circa ve li userete con l'organo e questo punto interrogativo era perché volevo coinvolgermi se ne avete voglia e quindi provate a dirmi voi secondo voi quali sono molto rapidamente effetti diretti indiretti che vengono in mente di un'inondazione che può essere anche il secchio che esonda provate effetti diretti sono facili in che termini? ok ok, buono funziona? morte negati effetto diretto e a volte pensare a quelli indiretti quelli indiretti sfuggono un po' danni a abitazione e agricoltura sì vabbè circa comunque un'idea me l'avete data proviamo a vedere un po' intanto vi faccio presente che giusto per ricordarvelo perché è una cosa a cui tutti arriviamo senza che io venga a spiegare più l'effetto è ritardato nel tempo meno abbiamo percezioni di quanto esso possa impattare sulle nostre sedute quindi gli effetti diretti sono quelli immediati annegamento, ferite, ipotermia se viene season del secchio d'inverno e voi siete fuori a meno 14 gradi è un problema per il vostro corpo ve lo garantisco complicazioni della mobilitazione di pazienti da ospedale e strutture più danni a infrastrutture sanitarie questa è una cosa immediata ammettiamo che una persona debba fare un'operazione chirurgica e in realtà in 5 giorni dovrebbe uscire all'ospedale perché entra, viene operato e esce se in quel periodo di 5 giorni c'è un allagamento tu questo come lo sposti, dove lo metti, dove lo mobiliti è un problema per quella persona e per l'organizzazione dell'intera struttura sanitaria come un problema è il fatto che se l'ospedale viene allagato si perdono un quantitativo di farmaci inusitato e si perdono anche tanti mezzi per curare le persone che subiranno danni diretti dall'alluvione andando verso effetti meno diretti infezioni delle ferite come sopra nel senso prima c'è la ferita poi l'infezione perché non puoi più curare o trattare bene con la ferita mancanza di acqua potabile ve l'ho spiegato prima malnutrizione, stesso motivo intossicazioni, indebolimento della popolazione patologie infettive e trasmissibili fa tutte parte di un pool di cose che avvengono quando c'è fondamentalmente a mancanza di acqua potabile anche questo vi spiegherò nel dettaglio fino ad arrivare all'effetto più indiretto quindi l'impoverimento del tessuto sociale in toto malattie croniche ed epidemie passiamo ora ad un argomento un po' più caldino le ondate di calore cosa è una ondata di calore? un periodo, diciamo, di tempo nel quale le temperature sono più alte del normale più alte del normale in che termini? per arrivare a definirvi bene una ondate di calore devo darvi un concetto statistico epidemiologico un po' noioso, mettiamola così però è interessante è molto utilizzato dall'epidemiologi in medicina che è il centile o percentile è una misura usata in statistica per indicare un valore sotto al quale scusate ricade una percentuale di altri elementi sotto osservazione ad esempio mettiamo io che sia alto 2 metri sì, mi piace sognare ma lasciamo perdere se il 97% di voi fosse più basso di me in questa stanza e solo il 3% più alto di me io sarei il 97% per centile per l'altezza in questa stanza vuol dire che appunto il 97% di voi è sotto e solo il 3% è sopra perché vi spiego questo concetto? perché le ondate di calore non sono state mai definite oppure raramente sono state definite solo all'inizio quando non si capiva bene l'effetto come temperatura assoluta non si diceva ah, l'ondata di calore sono 3 giorni in cui ci sono 37 gradi perché per noi sembra una fischiata in senso ad agosto 37 gradi le raggiungiamo tranquillamente per un olandese magari un po' meno insomma già a 35 gradi un olandese inizia a pensare che ci sia qualcosa che non va seriamente questo per dirvi che in tutti gli studi sulle ondate di calore fatti nel corso degli anni un concetto che è venuto fuori è che il troppo calore è un concetto relativo ma è relativo a cosa? a dove ci troviamo? sempre a differenza Italia-Olanda per citarne una le ondate di calore hanno i loro effetti più nocivi in climi moderatamente freddi o moderatamente caldi curiosamente ci ricadiamo dentro e mentre nei climi estremamente freddi o estremamente caldi hanno effetti sulla salute minori paradossalmente sembra strano ma è così questo di cui mi rendo conto che i grafici non si è legibili ma non è questo l'obiettivo che voglio darvi è il risultato di un grande studio fatto a livello internazionale quindi si va dall'Australia al Vietnam passando in mezzo per tutte le cose nell'ordine alfabetico che vi vengano in mente che studia il rapporto tra le ondate di calore e la mortalità allora dice ok vediamo l'ondate di calore che inizia tal giorno vediamo cosa succede alla mortalità nei giorni successivi analizzando il rischio relativo per la mortalità stessa beh scoprirono fondamentalmente vedete che nello studio c'è anche l'Italia scoprirono fondamentalmente che gli effetti sulla mortalità di un ondate di calore perduravano fino a 4 giorni nella maggior parte li siete analizzati tranne Italia e Spagna perché siamo sempre più fortunati e per dare una spiegazione a ciò in realtà gli studiosi dissero che in Italia e in Spagna erano le più arretrate dal punto di vista degli impianti di condizionamento quindi qui l'informazione che voglio far passare è ok l'ondate di calore ma se tu trovi refrigerio abbastanza rapidamente anche con un impianto di condizionamento fatto adeguatamente bene o male gli effetti sulla salute sono minori ancora il solito giochino degli effetti indiretti di un ondate di calore beh gli effetti del caldo sul corpo umano sono svariati in primo vi cito la heat exhaustion di cui non ho trovato una traduzione in italiano vi garantisco vuol dire stress da calore fondamentalmente è una condizione che viene data da perdita di sali liquidi causata all'eccessiva sudorazione che è la reazione fisiologica del nostro corpo al calore provoca dalla debolezza ai vertigini a cose ben più gravi disturbi della sensibilità nausea mal di testa palpitazioni quindi il cuore che inizia a battere molto forte questa condizione se viene protratta nel tempo porta al colpo di calore o in inglese heat strokes è un fenomeno molto importante dal punto di vista della biologia del nostro corpo nel senso è la temperatura del nostro corpo corporeo che tendenzialmente è sui 37 gradi raggiunge i 40 dai 40 gradi in su questo che effetto provoca? fondamentalmente una temperatura così alta danneggia in modo diretto le proteine e gli enzimi nelle nostre cellule quindi è come se ci danneggiassimo letteralmente dall'interno per quanto calore viene accumulato nel nostro corpo e come succede come si arriva al colpo di calore fondamentalmente ci sono tante cose che influenzano la prima ovviamente è la temperatura ma non solo molto importante anche l'umidità sapete che si dice sempre quando fa più umido sentiamo più caldo e tutte queste cose qua è tutto vero perché fondamentalmente noi proviamo a sudare perché noi sudiamo perché spargiamo del liquido sul nostro corpo che eventualmente evapora e quindi crea refrigerio quindi raffreddiamo così il nostro corpo se nell'aria c'è tanta umidità questo liquido che si accumula sulla nostra pelle fa più fatica a evaporare perché l'aria è già satura di acqua questo impedisce fondamentalmente al nostro corpo di sudare quanto dovrebbe sudare quindi provoca infine l'accumulo di calore all'interno del nostro corpo non a caso per valutare quanto è importante un'ondata di calore o quanto è importante comunque dal punto di vista di stress sul corpo il calore non viene usata solo la temperatura ma viene usata un indice che è il Tom Index non ve lo sono stato a scrivere ve lo spiego rapidamente che mette in relazione fondamentalmente la temperatura l'umidità dell'aria e la velocità del vento questi tre fattori uniti ci dicono quanto stai male in quella condizione quanto provi discomfort quanto il tuo corpo soffre e gli effetti indiretti dell'ondata di calore vedete che i decessi prematuri sono solo la punta dell'iceberg che questo è uno schema che fondamentalmente ci fa vedere sulla punta la gravità d'effetto maggiore sulla base la gravità d'effetto minore e vedete che il pool di popolazione coinvolto è sempre crescente in base a quanto poco grave è l'effetto ma per quanto l'effetto possa essere poco grave sul bilancio della salute globale della popolazione è sempre importante intanto consideriamo i decessi prematuri come già detto il ricovero ospedalieri l'eccesso pronto soccorso sono altre cose molto provanti per una persona e per la salute dell'uomo la riacutizzazione di malattie cardiorespiratorie ma non solo perché gli apparati che possono essere colpiti dal troppo calore non è solo cuore e polmoni ma sono anche tutto il nostro sistema metabolico tutto il nostro sistema endocrino quindi persone che hanno problemi di diabete persone che hanno problemi di terapia farmacologica in cronico tutti possano avere una problematica riacutizzata grazie all'ondata di calore questo schema mostra è praticamente uno zoom dello schema precedente vi mostra un'ondata di calore gli effetti di un'ondata di calore al novantasettesimo percentile di durata tre giorni su vari su vari pool di popolazione fondamentalmente vedete qua che abbiamo un 1 che sarebbe la mortalità standard di una popolazione durante durante un periodo normale quindi più questo valore sale più la mortalità relativa rispetto all'1 che è la base sale vediamo che quando inizia l'ondata di calore siamo sull'1 05 che sembra poco ma valutato su milioni di persone inizia ad essere rilevante ovviamente abbiamo quattro curve che il quale colore indica fondamentalmente che clima stiamo prendendo in considerazione la curva nera e la curva verde tratteggiata sono i climi estremi quindi moderatamente freddo e moderatamente caldo quella rossa e blu sono i clima moderatamente freddo e quello moderatamente caldo al quale apparteniamo vedete che gli effetti sulla mortalità del clima blu e rosso sono meno intensi all'inizio ma perdurano per molto più tempo qui si arriva a 6 giorni mentre quelli dei climi estremi a 4 giorni svaniscono faccio notare una cosa abbastanza peculiare e interessante per farvi capire quanto è importante un'ondata di calore sull'assoluto dell'uomo vedete come verso il quarto giorno la curva del clima estremamente freddo addirittura a un certo punto va sotto l'uno questo potrebbe essere interpretato come un rischio di morte dopo 4 giorni dell'ondata di calore diminuisce quindi l'ondata di calore è un fattore protettivo per la mortalità no, non è così semplicemente questa zona sotto l'uno sono questa diminuzione della mortalità è data al fatto che quando arriva all'ondata di calore ha un effetto definito effetto di mietitura che dal punto di vista epidemiologico viene letteralmente definito così ha un effetto così importante sulla popolazione che uccide tutti quelli che sarebbero dovuti morire nei successivi 9 giorni li uccide rapidamente ok quindi nei primi 3 giorni muoiono fondamentalmente tutte le persone che sarebbero dovute morire tra il quinto e il nono giorno motivo per il quale il rischio di morte relativo in quel periodo è diminuito un'altra domanda che volevo farvi vi ho parlato finora di temperature percentili e queste cose complicate ma secondo voi per definire la gravità di un'ondata di calore viene presa la temperatura massima o meglio il percentile della temperatura massima o il percentile di quella media o di quella minima forza e coraggio non vi mangia nessuno quindi la risposta è tutto l'insieme quindi media diciamo media media all'intervallo di tempo ok allora la risposta è corretta nel senso non è la temperatura massima che ci interessa è appunto la media e il concetto di temperatura notturna che ha giustamente tirato fuori un'ottima membro del pubblico è assolutamente corretto infatti noi nella nostra ridente modena e chiunque abiti in un'area urbanizzata durante un'altra di calore sta particolarmente male perché noi abitiamo in un urban island o isola di calore è una condizione data appunto dall'urbanizzazione dall'edificazione che provoca un aumento di temperature specialmente notturne di fino a 10 gradi rispetto alle temperature che ci sarebbero nelle circostanti aree rurali sapete anche voi che se state in cintra modena d'estate di notte c'è molto più caldo rispetto a stare in campagna proprio a un chilometro dal centro c'è molto più fresco questo è dato da vari fattori la mancanza di vegetazione che provoca un refrigerio naturale i materiali con i quali sono costruiti gli edifici assorbono calore durante il giorno lo rilasciano durante la notte il traffico stesso della città provoca calore la grande densità di popolazione noi stessi produciamo calore questo provoca un ambiente particolarmente ostile perché appunto la problematica è la non diminuzione delle temperature durante la notte perché noi possiamo anche stare a 40 gradi per 5 minuti e patire l'anima dell'inferno ma se 5 minuti dopo andiamo a trovare il refrigerio il nostro corpo ha modo di diciamo rilassarsi e riadeguarsi se invece stiamo tutto il giorno a 40 gradi e poi la notte la facciamo tutta 35 è un problema specialmente con i livelli di umidità che noi conosciamo bene abitando in posti dove l'umidità sale fin troppo passiamo ora ad un argomento decisamente più fresco qua siamo in Canada loro si divertono molto io non lo farei mai sinceramente e non date di freddo cold wave anche qui vi faccio una domanda extra rispetto al programma secondo voi qual è l'effetto sulla salute più diretto di un'onata di freddo perché ho provato a farla a tutti quelli a cui l'ho ripetuta e nessuno ci beccava ecco e l'ho sapeggiato i femori che si rompono le cadute un'onata di freddo provoca ghiaccio in strada ghiaccio in strada uguale cadute cadere sembra una cavolata per chi è under 40 quando si inizia ad andare avanti con l'età cadere a 65 anni è un problema ok perché la rottura di femore o la rottura di un osso in generale è una complicazione che negli anziani è molto problematica può essere anche mortale le cadute hanno un impatto sull'economia così grande come mi ha gentilmente spiegato il buon Maric che in Norvegia hanno deciso di creare un sistema che riscalda i marciapiedi d'inverno cioè se vedete le foto della Norvegia in inverno c'è tutta la strada ghiacciata tra i marciapiedi dove è perfettamente non asciutta ma almeno bagnata non ghiacciata perché hanno deciso che spendeva meno a scaldare i marciapiedi che curare tutta la gente che stramazzava per terra ok due anni fa a Modena ci fu una gelata pazzesca c'era l'ospedale pieno pieno di pazienti ortopedici ok i pazienti dell'ortopedia occupavano tutti i reparti possibili immaginabili e questo è un problema da molto punto di vista intanto il paziente stesso che non sta bene l'ospedale ha un accumulo di persone tale che non riesce neanche a gestire il numero normale di persone che dovrebbe arrivare in quel periodo per patologie diverse da una caduta quindi già le cadute è un effetto diretto ok mi rompe il femore ma ha effetti sulla salute in generale che si prolungano anche per molto tempo e che possono avere tante diramazioni qualcuno in prima fila aveva detto infarto corretto infarto miocardico quindi del cuore è un'altra problematica molto seria non vi sto parlando degli infarti del 65enne che crede di essere un trentenne esce fuori la mattina alle 5 di mattina a spalare alla neve no quelli ok sono cose che succedono perché diciamo ci sono persone un po' troppo allegre ok pensano di strafare un po' troppo no gli infarti miocardi ci sono anche relati a un concetto diciamo fisiologico cioè le basse temperature cosa fanno noi per provare a mantenere la temperatura del nostro corpo alta costringiamo tutti i vasi che abbiamo in periferia in questo modo scambiamo meno calore con l'esterno questo provoca un aumento fondamentalmente del flusso di sangue verso le parti centrali del nostro corpo cosa significa che un accumulo di flussi vicino alla pompa del nostro volume dei nostri fluidi corporei che è il cuore prova con una maggior fatica del cuore per pompare questi flussi perché questi fluidi non hanno dove sfogare dove andare in periferia questo aumento del lavoro cardiaco può provocare infarti specialmente in individui predisposti quindi naturalmente il freddo ha un pericolo se poi appunto vai a spalare la neve alle 5 di mattina è una certezza quasi il congelamento è un altro effetto decisamente diretto dell'ondato di freddo è un termine medico vero e proprio sotto una certa temperatura si formano letteralmente dei cristalli di ghiaccio all'interno dei nostri tessuti che vanno a danneggiare il tessuto si crea un tessuto di necrosi e quando finalmente questa persona va a trovare una zona calda che gli permette di trovare un po' di relax la situazione è peggiore ulteriormente e questa è la cosa paradossale perché l'anno che è stato creato dei cristalli di ghiaccio una volta che viene visto diciamo dalle nostre cellule l'estima immunitario per il ritorno del flusso sanguigno all'arto coinvolto viene ulteriormente aggredito al nostro sistema immunitario non piacciono le cose morte vedono quindi la nostra cellula il nostro govolo bianco vede cosa morta e provoca infiammazione perché vuole eliminare ulteriormente quel tessuto necrotico quindi questo amplifica il danno paradossalmente l'ipotermia che è inizialmente combattuta dalle reazioni del corpo che sono i brividi il brividi non è altro che una contrazione di tutti i muscoli del corpo in modo più o meno sincrono scusate sono tornato indietro in un modo più o meno sincrono che il quale scopo ha di generare calore generare energia cinetica tramite proprio la produzione di calore dalla contrazione dei muscoli è inizialmente combattuta ma in ultima istanza porta al decesso per arresto cardiaco una cosa molto interessante riguardo l'ipotermia che adesso è molto studiata per tutta la scienza della libernazione sapete tutte quelle persone che si fanno mettere sotto in freezer per qualche anno per vedere cosa succede tra 200 anni nobody is dead until they are warm and dead che vuol dire nessuno è morto finché non è caldo è morto e questo è un po' simorico diciamo però fondamentalmente significa che ci sono stati casi in letteratura dove una persona morta per ipotermia o considerata tale per ipotermia una volta riportata a temperature normali in un certo modo è tornata in vita quindi l'ipotermia è un meccanismo un po' particolare dipendentemente da quanto rapidamente si raggiungono certe temperature nel nostro corpo si può arrivare a situazioni di stasi simil morte che poi possono essere recuperate grazie al ritorno a temperatura normale parlano di freddo ora voglio sfatare un grandioso mito di colder di altier cioè più fa freddo più sto sano sto bene è vero che il freddo diminuisce le difese immunitarie questo è un dato scientifico è appurato e mi va bene condividerlo con voi ma io vorrei ricordare che la freddo e l'influenza non sono causati dal freddo la freddo e l'influenza sono infezioni virali come tali si trasmettono da persona a persona per via aerea o contatto con superfici favoriti dagli ambienti interni e affollati tipo noi adesso però fuori non fa così freddo ormai l'influenza sta scemando e quindi cosa significa che tutti i vari epidemii di raffreddo di influenza che ci sono in inverno sono dati dal fatto che noi stiamo tutti assieme appassionatamente in luoghi caldi per trovare riparo dal freddo magari senza aprire le finestre perché fuori ci sono meno 20 gradi perché aprire la finestra questo aiuta in modo determinante la trasmissione di raffreddore influenza citando Shackleton che è uno dei che ha passato praticamente la sua vita in Antartide il più lungo tempo che sono stato nella mia vita senza avere il raffreddore sono stati i due anni consecutivi che ho fatto in Antartide ok lì non c'è il virus puoi prendere tutto il freddo che ti pare ma non avrai mai il raffreddore perché non c'è l'agente patogeno questo per dire che per non prendervi l'influenza li coprite andate fuori non state imposti affollati e sicuramente non la prenderete cos'è questo qualcuno si vuole lanciare qualcuno che non sappia già la risposta vedo grandi scienziati nel pubblico che conosco fare facce allucinate eh vedi già pensate che fosse un patogeno deformazione professionale non è un patogeno questa indicazione ve la do va bene dai questo è polline ok perché ora vi parlo di pollini perché climate change ha influenza anche su quelli e quelli come influenzano la nostra salute immagino che buona parte di voi no non buona parte spero pochi di voi però qualcuno di voi sarà allergico e i pollini sono degli allergeni più gettonati diciamo così come influenza il climate change i pollini beh pensate che si sta creando un ambiente sempre più caldo sempre più umido con sempre più CO2 eh ragionando un po' biologicamente su come funziona la pianta sono tre cose che la pianta bene o male fa un piacere specialmente a certi tipi di piante quindi viene incrementato il numero e la rapidità di crescita delle piante ovviamente questo non fa bene alla biodiversità del mondo vegetale nel senso non tutte le piante ne trago un vantaggio ma quelle che ne trago un vantaggio a un clima del genere lo sfruttano davvero tanto viene anche incrementato il quantitativo di polline prodotto dalle piante stesse inoltre si incrementano le proteine allergizzanti contenute alle polline vengono prolungate le stagioni di produzione del polline e ci sono anche modifiche nella distribuzione geografica delle piante produttrici sempre per il cambiamento dell'ecosistema parlare sempre di allergie e simili cos'è questo? più facile i migliori amici di uno studente universitario scapolo le muffe ok che non provocano solo allergie ok io ho una perdita in bagno sono andato a macchia di muffa grande davvero così adesso la sto riparando però dopo aver studiato questo per fare questa conferenza un po' mi sono spaventato non è stato a pensare ok devo agire molto più rapidamente le muffe possono provocare disturbi respiratori delle vie aeree sia superiori che inferiori aeree superiori si intende in termine medico dalla facciamo trachea in su per essere semplici quindi riniti laringiti tracheiti chi più ne ha ne metta disturbi respiratori delle vie aeree inferiori con veri e propri attacchi asmatici perché uno può essere anche allergico alla determinata muffa la muffa può produrre sostanze che provocano attacchi di asma possono incrementare il potere allergico dei pollini stessi prodotti delle piante le muffe e i funghi in generale possono dare infezioni specialmente i soggetti predisposti e intendo tutti i soggetti monodepressi quindi affetti da HIV AIDS sotto terapia chemioterapica soggetti affetti delle leucemie possono anche produrre tossine e non parlo di tossine che ti fanno venire la diarrea due giorni qua stiamo parlando di cose abbastanza grosse ad esempio l'aspergillus flavus che è un fungo produce la flatossina che è categorizzata tra i cancerogeni certi cioè significa che la flatossina è scientificamente approvato che provoca il cancro questo perché va a colpire gli epatociti le cellule del nostro fegato provoca un danno diretto provoca necrosi quindi morte cellulare e questo processo cronicizzato provoca alla fine cirrosi epatica che è quello che succede a chi beve troppo per tutta la vita e infine tumore del fegato quindi abbiamo un pool enorme di disturbi che possono essere generate alle muffe perché vi parlo di muffe prima vi ho parlato di grandi quantità d'acqua che vanno dove non devono essere tsunami alluvioni uragani dopo un alluvione può essere un problema sottovalutato ma la vostra casa è stata sotto due metri d'acqua si creano muffe e le muffe anche quelle create da un alluvione famose esondazione delle secchia nella pianura padana possono creare problemi rispetto a problemi di salute molto importanti quindi abbiamo visto in modo spezzonato quali sono le problematiche che possono colpire insieme al respiratorio a partire da quella più scontata che non è stata analizzata ma l'inquinamento dell'aria abbiamo visto grazie a Maric come l'inquinamento che c'è a Pechino è simile a quello che c'è durante un incendio cioè se voi andate a Pechino è come se foste in mezzo ai fumi emanati da un incendio nella foresta pluviale immaginate un po' che potrebbe essere problematico per i vostri bronchi le alluvioni e disastri naturali che possono provocare stress e asma le allergine aerei sempre asma riniti e quant'altro e le problematiche di caldo estremo e freddo estremo che possono provocare le acutizzazioni di patologie già esistenti e aumentare la mortalità da un punto di vista respiratorio non vi chiedo cos'è questo ve lo dico direttamente a meno che non ci sia un microbiologo che si vuole lanciare ma è anche troppo facile questo è il vibrio nel colera con la sua tipica forma a virgola perché sono arrivato a colera? vi voglio parlare delle waterborne disease quindi le patologie che nascono nell'acqua e sono patologie infettive trasmesse con l'ingestione con il semplice contatto con acqua contaminata vi ricordate prima che vi dissi ne parleremo più avanti di questa cosa vi parlavo appunto di come ci possono essere infezioni anche trasmissibili per la mancanza d'acqua questo è il motivo se si va a cercare acqua non potabile si rischia di contrarre queste cose ora il colera può avvenire anche normalmente un'infezione da colera se si mangiano certi tipi di cose non pulite bene se si va a cercare però diciamo non è normale uno deve andarselo un po' a cercare l'infezione da colera per prendersela se c'è un evento climatico estremo che sposta l'acqua già inquinata da colera che normalmente nessuno di noi berrebbe magari in una fonte d'acqua potabile capite che la trasmissione è importante ad Haiti ci fu un'infezione di colera è un antico molto importante ricordate lo tsunami e colera è particolarmente cattiva nel senso ce ne sono varie forme quella più aggressiva può portare l'eccesso in 48 ore per sciocchi povolemico cioè tutti i liquidi del vostro corpo vengono persi tramite vomito e diarrea credo sia una morte abbastanza orribile e se non altro rapida però 48 ore morti così non deve essere una bella esperienza il tifo o febbre tifoide anche questa c'è un'isostata epidemia anche senza eventi climatici estremi ovviamente però sempre per spiegarvi come può un evento climatico influenzare sotto molti punti di vista anche quello infettivo anche se sembra così distante come concetto e il tifo provoca un lento rialzo della temperatura fino a portare un completo indebolimento dell'individuo dopo due settimane della contrazione di una febbre tifoide grave l'individuo non riesce ad alzarsi dal divano è una patologia molto importante se l'infezione si aggrava può portare l'infezione può invadere l'agente patogeno può invadere tutti gli organi del nostro corpo può anche provocare meningiti o encefaliti e quindi portare al coma e alla morte il nostro amico ratto per ricordarci che esiste anche un altro agente patogeno che è comunemente presente in realtà ma nessuno di noi ci viene mai a contatto tranne se uno non fa certi tipi di lavori che è la leptospirosi che comunemente è trasmessa per contatto con un'urine di ratto in determinate classi di lavoratori pensate al netto urbino banalmente pensate a quello che lavora direttamente il sistema fognario ed è una patologia che ogni tanto qualche caso se ne vede durante eventi climatici estremi acqua fognaria che viene sparsa letteralmente ovunque ok sempre pensando all'urgano quindi capite come la leptospirosi da eventi spot possa diventare effettivamente un problema anche perché la modalità di trasmissione di questo patogeno può essere anche per contatto con l'acquam l'ingestione non è necessaria se una ferita e la leptospira viene a contatto con la mia ferita io ho rischio di prendere la leptospirosi un'altra nostra grande amica dell'estate questa è una zanzara tigre ci fa ricordare l'esistenza delle vector bore disease le vector bore disease sono patologie trasmesse da vettori che in questo caso sono banalmente gli insetti è particolarmente favorito da climi caldi sia secchi che umidi vi cito qualche esempio West Nile virus qualcuno ne ha sentito parlare? quest'estate ce ne sono stati tanti casi mass media aiuto l'invasione della West Nile tanti casi in Emilia Romagna tanti casi la realtà è che i mass media quest'anno erano abbastanza carichi nel senso ci è andata un'impressione che ci fosse queste grandi invasioni di West Nile ma in realtà c'è da un po' è trasmesso dalla zanzara al genere il Culex di solito ha una patologia abbastanza tranquilla nel senso che ha una patologia febbrile che può complicarsi con una meningite ma per fortuna e solo in soggetti predisposti raramente succede la dengue qualcuno ha mai sentito parlare di dengue? ci sono stati forse un paio di casi l'anno scorso se non ricordo male la dengue potrebbe essere un problema molto più grave del West Nile la dengue è sempre una patologia virale è trasmessa nelle nostre zone dalla zanzara tigre e in Italia la maggior parte sono casi di importazione quindi uno che viene dall'Africa o è andato in Africa per farci i cavoli suoi si prende la dengue là torna qua la zanzara tigre lo punge e lo porta a qualcun altro per fortuna questi casi di solito sono non mortali perché per arrivare a una dengue diciamo letale e pericolosa bisogna essere infettati più di una volta è una cosa un po' assurda ma è così più di una volta la CP diversi è la stessa patologia mentre la prima volta che si viene infettati da dengue si ha delle problematiche articolari febbre non si passano dei momenti sicuramente ma non è molto pericolosa dal punto di vista della mortalità perché dico che la dengue potrebbe essere un problema in un futuro prossimo perché quello che salva noi la nostra popolazione da epidemie di dengue è il fatto che la zanzara tigre è un pessimo vettore per la patologia stessa è abbastanza incidentale il fatto che la zanzara tigre riesca a trasmettere la dengue da ogni individuo all'altro il vero vettore abita a latitudini molto più basse molto più a sud di noi ok e perché questa zanzara non riesce a sopravvivere da noi grazie ai nostri inverni perché sono troppo rigidi per questo vettore se un giorno gli inverni diventassero miti questo vettore avrebbe vita facile anche da noi e la dengue potrebbe diventare un problema non solo come caso di importazione ma proprio dal punto di vista di epidemie cikungunya questo nome complicato in un qualche dialetto di una qualche popolazione sudamericana vuol dire ciò che piega è una patologia molto fastidiosa ci furono tanti casi un totale di 750 in Italia una epidemia nel 2007 con 500 casi una nel 2017 con 250 che provoca un dolore articolare una malformazione dell'articolazione stessa che provoca proprio è come se l'articolazione fosse piegata alla fine della patologia e per questo viene chiamata in quel dialetto significa ciò che piega per fortuna questa non è mortale ma anche si è trasmessa alla zanzara tigre quindi capite com'è facile che avvengano le epidemie anche nelle nostre zone febbre gialla anche in questo caso è un problema ancora più lontano dalla dengue ma che in un futuro potrebbe essere attuale 15% degli infettati ha un'invasione di organo che può essere il fegato può essere il rene può essere tutti organi comunque assolutamente vitali per il nostro corpo in particolare la problematica che crea è la malfunzione epatica che alla fine porta a shock emorragico perché il fegato produce sostanze che sono ciò che permettono al nostro sangue di coagularsi se queste sostanze mancano noi abbiamo emorragie da qualunque parte per concludere questo è uno schema dell'anset un'altra rivista molto autorevole che è fondamentalmente la stessa cosa che vi ho descritto prima con lo schema del New England Journal of Medicine ci mostra come gli effetti diretti le climate change cioè le tempeste la siccità anche gli allagamenti le onate di calore hanno effetti sulla qualità dell'acqua sull'inquinamento dell'atmosfera sull'uso dei terreni e sul cambiamento dei terreni stessi quindi cambiamenti ecologici in genere e sia come effetto diretto che come effetto indiretto portano a un impatto sia sulla salute umana sia sulle dinamiche sociali che a loro volta potranno influire sulla salute umana passo il comando a Maric per le ultime o penultime parole allora l'ultima parte proprio le ultime slide li conosciamo tutti questi birra caffè cioccolato vino queste sono le maldive comunque paradisi tropicali ecco vi abbiamo voluto lasciare una riflessione prima di chiudere come un compito a casa i cambiamenti climatici se continuiamo così ce li porteranno via o almeno alcuni di essi diventeranno dei beni estremamente di lusso come birra cioccolata caffè e vino invece i paradisi tropicali li perderemo del tutto ce ne verranno di nuovi però perché perché richiederanno in questi casi degli alimenti troppa acqua sia dalla coltivazione della pianta che anche nella loro produzione quindi nell'intero ciclo produttivo e noi non ne avremo a disposizione per l'uso che ne stiamo facendo adesso e l'ultimo gli atolli verranno sommersi dall'innalzamento del livello del mare perché abbiamo deciso di concludere così perché l'ONU nell'ultima parte dello scorso anno ha pubblicato questo rapporto che mette una data di scadenza al nostro mondo e al clima adesso siamo già a 11 anni perché è il 2019 per superare il punto di non ritorno che cos'è questo punto di non ritorno è il famoso aumento di un grado e mezzo dell'accordo di Parigi del 2015 tutt'al più due gradi proprio per arrotondare cosa succede se noi superiamo questi fantomatici due gradi abbiamo come ha parlato Francesco poco fa il cambio di habitat che ci porteranno malattie provenienti da altri posti eventi estremi come alluvioni uragani acutizzazione di alcuni eventi quindi sempre più caldo in estate alcuni avranno sempre più freddo in inverno come abbiamo visto quest'anno in un meno 35 a Chicago e in Canada sono ghiacciate le cascate del Niagara quindi un evento abbastanza raro e soprattutto rischiamo di scatenare quello che è lo scioglimento totale dei ghiacciai con aumento fino a 150 metri del livello del mare con la perdita totale dei ghiacciai e lo scioglimento del permafrost nelle zone boreali quindi che causerà disgregazione dei terreni e soprattutto imprigionati nel permafrost nel 2016 c'è stata nella pianura del Yamal in Siberia una crisi legata all'antrace che è un se vuoi dire tu che ok è un batterio sì un batterio sì molto è stata un'epidemia molto spinta in Siberia e che era imprigionato nei ghiacci e così altri eventi come abbiamo già detto perdita habitat specie animali o risorsa idrica e terreni quindi la presentazione si conclude qua ma abbiamo deciso di passerò la parola a Francesco aggiungere un'ultima slide per non lasciarvi con la depressione nel cuore diciamo che è ah vai avanti perfetto spoiler ok spoiler della prima torniamo indietro non vogliamo lasciarvi con la visione catastrofista di tra 12 anni finirà tutto vi vogliamo dire vi vorremmo anche dire cosa potete fare voi per aiutare ma vi diamo uno stimolo in più cosa potete fare voi sia per l'ambiente che per voi stessi cioè io ora vi elenco qualche buona abitudine che fa bene al vostro corpo e fa bene anche all'ambiente la prima l'avete vista non utilizzate l'automobile per i piccoli spostamenti per i medi spostamenti per quelli che potete affrontare in bicicletta o a piedi non usate l'automobile la maggior parte almeno il 50% delle emissioni di CO2 è data da mezzi di trasporto ok usate l'autobus piuttosto va bene anche l'autobus che mi rendo conto che a moda non è proprio il top del top dell'organizzazione dei mezzi pubblici di trasporto però è il top per andare in bicicletta usate questa bicicletta usate i piedi non usate l'automobile punto 2 bere tanto acqua non ho specificato mi sono dimenticato bere tanto acqua senza plastica bere tanto perché idratarsi è importante per il nostro corpo per mille motivi che non vi so spiegare senza plastica perché ci sono alcuni studi che dimostrano come l'acqua conservata in motivi di plastica possa prendere delle sostanze della plastica stessa e creare problemi di salute in particolar modo riguardanti la fertilità quindi considerate un mezzo per bere che sia una borraccia qualcosa di acciaio inossidabile per portarvi in giro l'acqua mentre andate in palestra al lavoro qualcosa di riutilizzabile basta plastica mangiare sano è a chilometro zero qui ho evidenziato a chilometro zero perché se voi prendete l'insalatina coltivata in Olanda nel campo bellissimo che ne producono tantissima e poi la portano fin qua il trasporto dell'insalata fin qua è tutta benzina che viene bruciata e tutta CO2 che viene mandata su intanto senza considerare che le piantagioni intensive usano molto spesso pesticidi che alla vostra salute non fanno bene riduccete il consumo di carne ora io non sono vegetariano e si vede ve lo ammetto bellamente però alcuni studi dimostrano che se l'intera popolazione mondiale è in tasse vegetariana si abbatterebbe l'emissione di CO2 l'emissione comunque che provo questo dannato climate change del 70% capite come ci sia un'influenza davvero enorme dagli allevamenti intensivi e questo fa tutto parte anche del mangiare sano a chilometro zero perché io da medico non vi dirò mai mangiare carne è un delitto vi dirò mangiata una o massimo due volte alla settimana e vi dirò di scegliere bene la carne che mangiate perché gli elementi intensivi provocano inquinamento adesso ci arrivo non ti preoccupare davvero l'hai anche vista sto slide non c'è bisogno dunque prendi una pianta e trattala bene questo perché la pianta ok se tutti noi avessimo una pianta un po' di verde in più verrebbe generato specialmente se la pianta durasse molto più la pianta indoor cioè tenuta dentro casa non solo fa bene all'ambiente perché comunque è del verde per quanto piccolo ma fa bene anche a voi perché si è dimostrato come una pianta anche singola possa ridurre i tossici e lo stantio presente nell'area di casa di un'ottima percentuale quindi tenere la pianta in casa aiuta anche voi come salute perché vi pulisce l'aria né più né meno infine questo è molto importante utilizzate antibiotici solo sotto consiglio del medico e solo nelle modalità descritte dal medico stesso significa che se avete mal di gola non andate a cercare gli antibiotici il fondo degli antibiotici nelle scale no è sbagliatissimo mai un prospetto su come usarli perfetto bene no usateli solo quando ve lo dice il medico nelle modalità in cui ve lo dice il medico perché non so se qualcuno di voi ha visto un'immagine recente sapete che c'è stata la 10 year challenge quindi fare vedere come siete cambiati voi da quando da 10 anni fa adesso c'è una bellissima immagine che fa vedere come è cambiata l'antibiotico di resistenza in 10 anni e no non è bella da vedere in realtà è bella solo per esprimere un concetto che se andiamo avanti così con l'utilizzo degli antibiotici sia utilizzati per gli allevamenti di carne gli allevamenti intensivi sia utilizzati non in modo improprio ci sarà un grave problema di salute tra poco che sarà la resistenza dei batteri degli antibiotici stessi quindi cosa che fa bene a voi e all'ambiente vi lasciamo con questo slide grazie complimenti allora avete raccontato un sacco di cose io per questa sera taglierei la parte delle domande anzi ne approfitto per dirvi che abbiamo una nostra mail in cui potete scriverci potete mandare tutte le domande che giriamo i relatori se volete rivedere le parti della conferenza la metteremo su youtube perché le registriamo tutte quindi se avete perso delle conferenze passate le trovate tutte su youtube fine del momento promozionale riparto da questa slide per dire che il primo consiglio legato alla bicicletta è anche ciò di cui parleremo la prossima settimana quanto siamo bravi nel fare noi il programma così possiamo lanciare ogni volta le conferenze successive parleremo della bicicletta e di come funziona quali sono i meccanismi che fanno sì che voi possiate andare in bici e pedalare e anche di come questo impatta l'ambiente sarà una conferenza molto divertente quindi fate in modo di venire ecco detto questo passiamo da una cosa carina a una cosa non troppo bella ovvero prima mi è successo di vedere qualcuno che stava provando a forzare le tre bici che c'erano qua fuori visto che siamo sempre in tema bicicletta grazie all'aiuto anche di una persona che era fuori l'abbiamo mandato via peraltro era in bici pure lui e quindi abbiamo provato anche a rincorrerlo però ho fatto che mi potevo cercheremo di capire come fare la prossima settimana a gestire questa cosa chiaramente ne parlo anche con il planetario noi siamo ospiti del planetario quindi è un qualcosa che cercheremo di capire insieme con loro per piacere è una cosa che vale sempre adottate tutte le precauzioni possibili legate alla bicicletta eccetera eccetera mi sembra di dare il decalogo per la bicicletta però non ce l'hai la slide la prossima settimana metteremo anche questa cosa a questo punto mannaggia e niente quindi questo era quello che volevo dirvi se volete aiutarci a diffondere un po' queste conferenze potrete trovare giù ancora delle altre locandine che potete diffondere se volete sostenervi c'è la fantastica cassetta dell'offerta libere e la prossima settimana venerdì prossimo ci sarà ancora lo sciopero del 15 di marzo che noi continuiamo a sostenere molto forzatamente bene grazie a tutti e buonanotte